Ciao amici! Quizzone! Come facevano le nostre nonne quando avevano dolori? Se li tenevano? Certo, avevano un'altra tempra, ma i dolori non sono mai piaciuti a nessuno e un tempo si usavano rimedi casalinghi per combattere il dolore in modo facile ed efficace, ma oggi tendiamo a dimenticarli. Per fortuna ci sono io che ve li racconto nei miei video. Se vi piacciono i rimedi della nonna mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Come sempre poi oggi c'è la scienza a spiegarci perché questi rimedi funzionavano. Questi rimedi naturali antidolori si fanno con limone e olio di oliva. Mica devo farmi un'insalata, oggi li usiamo sul corpo. Il primo rimedio si fa grattugiando la buccia di un limone bio e usandola per massaggiare la zona dolente. Bisogna strofinare delicatamente la buccia sulla parte dolorante, poi coprire con una benda per due ore. Il secondo rimedio si prepara in anticipo e si usa al bisogno. Mettere la scorza di due limoni bio in un vasetto di vetro e coprire con olio extravergine di oliva. Lasciare chiuso in dispensa per due settimane, dopodiché il rimedio è pronto. In caso di dolore massaggiare delicatamente la zona dolente con questo olio medicato, poi coprire con una benda leggera e lasciare riposare per una notte. Benefici scientifici. La buccia del limone è ricchissima di acido citrico, acido malico e acido formico. Sono tre sostanze antisettiche e antinfiammatorie molto potenti, con effetto rilassante anche sui vasi sanguigni, quindi facilitano la circolazione in caso di traumi ed ematomi. L'olio di oliva contiene oleocantale, un composto efficace contro artrite e artrosi, perché blocca la formazione di enzimi infiammatori. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato nel 2015 sul Journal of Nutritional Biochemistry. Grazie Simo, sono stupita! E voi amici, vorreste vedere più rimedi della nonna sul canale? Fatemelo sapere votando il sondaggio che trovate nella piccola i cliccabile qui in alto. Iscrivetevi al canale per seguire tutte le novità con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi meglio con la natura! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!